Aio Magiscoteca 4 Aio Magiscoteca 4 Aio Magiscoteca 4 Al prossimo episodio Entiende l'esquerra Dìgame Quanto tempo tengo che esparare Quanto tempo tengo che esparare Quanto tempo tengo cheesilisasi Non paro in anglo Dù la chance che ho hai letto Passa me by and I'll regret I can't forget They're haunting me Like a scar of unpaid debts Is it enough to live in hope That one day we will be free Without this fear I'm going out and carrying on as no more I'm just going to take a board 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 A tutti e potenbo che ero sva Grazie a tutti 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 Grazie a tutti